Le origini dell'attuale terrorismo islamista, bandiere nere dell'Isis, guerra santa dello stato islamico e dei suoi seguaci contro gli infedeli occidentali, vengono raccontati in questa prima autentica opera di graphic journalism completamente italiana. Toni Capozzo racconta così in prima persona la nascita del terrore in nome di Allah, in un'opera a fumetti in bilico tra il reportage di guerra e il diario personale, tra il reso conto storico degli ultimi anni e l'autobiografia. Il volume è stato presentato nel Salone Viviani, Casa della Cultura, nel comune di Castellammare di Stabbia, a discuterne con l'autore il generale di Corpo d'Armata Rosario Castellano, comandante delle Forze Operative Sud e Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabbia. Siamo abituati a pensare ai fumetti come una forma di evasione, di fantasia, di avventura lontana dalla realtà, no, ho provato a raccontare a fumetti una storia tragicamente reale, quella che ha visto le bandiere nere dell'Isis, impadronirsi di buona metà della Siria e una buona parte dell'Iraq per un periodo lungo di almeno 3-4 anni, che fortunatamente sta ora chiudendosi, ma che non lascia certi tutti noi che non si ripeteranno attentati in Europa, che non si ripeteranno gesta sanguinose dalla Somalia all'Afghanistan. Ho avuto i miei Natali qui in questa magnifica città di Castellammare di Stabbia ed è un piacere, un vero piacere che incontro di nuovo l'amico Toni Capozzo, che essendo un giornalista embedded ho avuto modo di incontrare in più di una missione che abbiamo svolto all'estero. Un evento importante perché vede la presenza qui sul nostro territorio del generale di Corpo d'Armata Castellano di origini stabisi, è il più grande giornalista e scrittore Toni Capozzo, è quindi un momento importante di confronto e questo è un momento di cultura e di crescita della città.